Oggi non abbiamo fatto bello su battuta, abbiamo sbagliato un sacco di battute e abbiamo fatto quegli errori che non dobbiamo fare. La prossima partita giochiamo contro Milano a casa e dobbiamo lavorare, proviamo a giocare bene, bene da vedere, bene per noi, per sentire felici dopo la gara. Secondo me dobbiamo lavorare con le giocatori, con il paleggiatore perché non abbiamo tanto tempo a giocare insieme quindi lavoriamo su questo e anche battuta e recessione, quello importante.